Sì, è un servizio molto apprezzato dai cittadini ed era peraltro un punto del programma elettorale che io ho presentato ai cittadini durante la campagna elettorale. Abbiamo esitato questo punto realizzando la prima casetta dell'acqua, l'acqua del sindaco, che ha avuto molto successo. Adesso giorno 30 marzo alle 9 e mezza inaugureremo la seconda casa dell'acqua in un altro quartiere della nostra città proprio perché i risultati che abbiamo ottenuto con la prima hanno soddisfatto i cittadini che hanno apprezzato il servizio. Peraltro con questo servizio puntiamo a sensibilizzare i cittadini all'utilizzo dell'acqua in bottiglie di vetro, quindi eliminiamo il PET, la plastica e infatti solo con la prima casetta dell'acqua in circa un anno abbiamo evitato di utilizzare centomila bottiglie di plastica che sono un numero consistente per cui anche per la tutela dell'ambiente, per creare queste nuove consapevolezze, per un'ecologia sostenibile dell'ambiente, quindi sono azioni, atti di civismo, io li chiamo, che qualificano anche una comunità e io devo dire che la mia comunità di Rosolini abbia colto nel segno utilizzando appunto quest'acqua che costa pochissimo, 5 centesimi al litro, ma che consente anche alle famiglie meno abbienti di poter godere dell'acqua refrigerata, frizzante, gassata, quindi un'acqua molto controllata anche dalla società che ha in gestione appunto questo servizio, quindi su questo piano noi contiamo probabilmente di realizzarne ancora un'altra per coprire l'intero centro urbano e siamo certi che questo servizio sarà un servizio molto apprezzato dei nostri cittadini. Non a caso avete deciso di mettere questa seconda accanto a una scuola? Sì, l'abbiamo messa accanto a una scuola, peraltro nella giornata dell'inaugurazione verrà distribuita acqua gratis per tutti perché saranno presenti tutti i bambini ai quali saranno date delle borracce proprio per sensibilizzarli perché da loro poi viene la sensibilizzazione per le famiglie, dei genitori e quindi si crea appunto la consapevolezza della tutela dell'ambiente e del territorio. Lei diceva più acqua alla spina, meno plastica, quindi che finisce in discarica, risparmio per i comuni, ma anche su questo fronte voi state attivando anche un'isola ecologica. Sì, più risparmi per i comuni perché conferiamo meno rifiuto in discarica. Tra l'altro stiamo realizzando l'isola ecologica, il progetto è già stato redatto, adesso lo metteremo in gara e realizziamo questa isola ecologica dove sarà presente anche una bilancia per poter pesare i cittadini se vi si recano, portano la plastica o il cartone o altro materiale, lo pesano e poi alla fine dell'anno avranno degli sgravi sull'Atari e questo diventa anche un'agevolazione per i cittadini e quindi sono tutte azioni mirate proprio per agevolare i cittadini nella riduzione del costo dell'Atari perché è un servizio che deve essere coperto purtroppo lo Stato impone al 100% dai cittadini e quindi noi tentiamo in questo modo di conferire meno rifiuti in discarica, da un lato noi risparmiamo come comune e dall'altro consentiamo ai cittadini di risparmiare alla fine dell'anno sul tributo.